Salve a tutti ragazzi, sono JS in questo nuovo video. Oggi PJ non c'è perché ha i suoi motivi, non sono riuscito a contattarlo. Bene, in questo video vi parlerò, è una nuova serie che voglio aprire, anteprima. In questa serie vi farò vedere delle anteprime di videogiochi, carte e cose del genere, come c'è scritto nella descrizione. In questo caso parleremo di un gioco che uscirà il 28 novembre, Pokémon Rubino a Omega e Zaffiro a Falco. Ecco qua abbiamo queste stupende icone. Allora, si comincia da questo. Allora, qua abbiamo la confezione di... Scusate, sono pieno di programmi in un video. Questa è la confezione dei videogiochi. Come potete vedere c'è Rubino a Omega, Zaffiro a Falco e questo qui che ho trovato. Quindi non mi so dire niente di questo qui, ma spero che sia una versione che uscirà successivamente. Ma come ho sentito dire in giro, c'era qualcuno che diceva che sarebbe uscito un po' come un versione i-z, voglio dire. Però non è mai uscito, almeno che io sappia in Italia. Quindi lasciamo perdere. Quindi successivamente passiamo verso le novità. C'è una novità novità e l'altra che non è inclusa tra le novità, cioè una cosa che è già in XXLON. Ecco, la prima novità è il Pikachu cosplay. Ok, questo Pikachu è fatto, si traveste da confetto, scienziata, lottatore, damigella e rockstar. Allora, praticamente per quanto ho saputo sono, adesso che lo sapevo bene, sono tutte femmine, ci ho capito della cosa. Non so come mai non ne ha fatto neanche uno masco, la rockstar e gli lottatori avrebbero fatto benissimo a fare gli coschi. Soprattutto perché il lottatore si capisce che c'è un cuore sulla testa e invece la rockstar si capisce della cosa. Perché i Pikachu femmini hanno il cuore, hanno la cosa su un cuore. L'altra novità è che si possa incontrare fino a 5 Pokémon servatici in una volta. Ok, allora, tolte le novità, a parte le omegabilizzazioni, le parti iniziali, cominciamo con la mappa. Ehm, scusate, ma... Ehm, fatemi su, per fare... Ehm, allora, ci vogliamo tra 5... Ehm, come qui ragazzi, scusate, ma ho dovuto mettere su questa cosa, se no ci allungavamo il video. Ecco, ho fatto questo e sistemato. Questa, in teoria... Ehm, in questa, in teoria, dovrebbe essere la mappa della regione di Ewen, cioè la regione in cui è avventato il gioco di Rubino Omega e Zaffino Alfa. Che è anche la versione di Smeraldo, Rubino e Zaffiro della versione per Game Boy. Ehm, passiamo subito a... Scusate, la domenica di... La parte iniziale, allora, quando si inizia, si esce anche dall'esercito e si vede il professore attaccato da un Pokémon. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare. Allora ci dice, hey tu per favore aiutami, noi vediamo questa borsa per terra. E, 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 mi sembra che ce lo dice, perché comunque... Andiamo, andiamo lì, la prendiamo e prima ci sono tre Popole. Allora, una c'è Torchic, l'altra c'è Tricco, l'altra c'è... E la terza c'è Matkip, i tre Popole di Zemdion. Che è la loro terza evoluzione, sì, anche Megavolvera. Questa non so cosa sia, ma credo che sia la nostra stanza, o una tana segreta comunque. E questa è una cosa bella, perché ho sentito dire che ci si fanno proprio le tane segrete. E' come proprio nel gioco dei Pokémon Diamante, Perle e Platino, che si scava sotto terra e si possono fare delle basi. Ok, allora, le parti iniziali, la bantazza. Allora, passiamo ai leggendari, ai personaggi. Allora, passiamo subito ai protagonisti. E qui vediamo subito il protagonista maschile e il protagonista femminile. Come in tutti i giochi, il maschile si dà il nome voi, e anche nel femminile, però nel serie, lei si chiamerà Vera. Come nell'altro gioco, o come nell'altro gioco, o come nell'altro gioco. Passiamo subito ai cattivi, abbiamo loro due, i capi. Beh, senza contare i team completi, però abbiamo i capi che hanno Pokémon, molto probabilmente avranno Pokémon che si megavolveranno. Lui Sharpedo e lui Kamenut. Si capisce da, guardate questi segni qua. Questa, la sua collana particolare, sembra che ci sia una megapietra. Invece qua, nei suoi occhiali, sembra che ci sia una megapietra nella montatura dei occhiali. Boh, questo è ancora un mistero, però ho trovato una cosa così per vedere. I capi palestri ne sono stati svelati sotto i 5. Abbiamo Roxanne, che credo che sia il suo vero nome, non so, ce l'hanno già aspetto da qui sotto. Che è la prima capo palestra, il secondo è lui, ho sentito dire che è il padre dei due eroi, quindi Vera è il personaggio maschile. Lui, che è il capo palestra di tipo, allora... Oh no, lei non è sovra, non è sovra Romero, sì, forse sì. E lei è la capo palestra di tipo Pietra, lui non mi ricordo. E lui è il capo palestra di tipo Lotta, appassionato di surf. E lui è il capo palestra di tipo Eletro, e lei è il capo palestra di tipo Cuoco. Ok, passiamo ai Super 4 che sono stati svelati, e ho dato 2, come 5 per palestra. Lei mi sembra che abbiano detto che abbia poco di tipo Psicospettoro. E lui ha ben poco ma di tipo Spettoro, un grande fan, buono. Questo è ancora un mistero, non lo sentito ancora tanto bene. Passiamo ai poco ma abbiamo delle evoluzioni, allora passiamo subito ai Pokemon. come ho detto c'è madcap tenarino trippo serioso costile e torcico coccoloso il puccino di fuorlo no, guardate i livelli torcica al 50 e tricol al 50 a questo ora hanno già la terza evoluzione passiamo ai pokemon alle mega evoluzioni abbiamo lui che non mi ricordo per il nome che è fichissimo il cristallo che sembra che sia spaventato giovane gli altri videogiochi qui troviamo mega kamerut e mega shard video e allora abbiamo mega shepty mega blazing che troviamo già dall'evento di quando si comprava il gioco di pokemon x o xion che era evento e c'è già la sua mega evoluzione e mega suona partecipano di quello che da madcap di tenarino di rilasco mega di ansa che come stanno nemmeno i seri tutti ci sono accertati e ho scoperto che probabilmente sarà un evento di pokemon di rilasco 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 che è in questo in questo in questo poso si vedrà avrà e ci sarà l'evento di gianse più la sua mega pietra mega lapanni dalla regione di sinno mega salamence dalla regione di sinno che è una bestia di rilasco di rilasco mega latios che probabilmente si caporerà perchè latios e la latios si sa di più latios che probabilmente essendo altri pokemon leggendari della regione di urn si troveranno con le loro mega evoluzioni non lo so ragazzi mega salamence mega salamence che si va sul sito di pokemon nel primo programma mi dicono poi ma di tutto lui e poi gli altri come noi mi dicono sembra un fogottino mega 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 cross cromato scusate che si avrà la sua prima senza mega pietra però la sua prima con il fogo cromato tramite vento e poi si trova la mega pietra abbiamo un mega udino io non mi supporto non mi sono mai interessato di odio ecco il mega metacrossing versione normale e' già finita dai furzi poi abbiamo due poco come le Jedi più concerti e' sono Archeo Keyogre e Archeo Overhoughton e' e' l'ultima cosa vi faccio vedere lo spot del video e poi ci sentiamo 3 di 7 ah e' l'unico spot che ho trovato e' l'unico notizia 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 e' il tuo aiuto Ci salutiamo qui, vi iscrivetevi, lasciate dei mi piace O dei pollice in su come vi piace dirlo Come piace a voi dirlo Detritelo come volete Al prossimo video E al secondo video di Antreprima Quindi vi saluto e alla prossima